Problemi per la raccolta dei rifiuti qui a Sansevero, come potete vedere dalle nostre immagini. A lamentarsi sono soprattutto gli operatori della ditta che ha in gestione la raccolta di rifiuti che lamenta la mancanza di attrezzature e di mezzi. Ma allora ascoltiamo proprio la denuncia di uno dei lavoratori. I lavoratori non avendo avuto divise, i mezzi sono faticenti, purtroppo per la loro sicurezza, per la sicurezza dei terzi, perché se escono con un cambio senza freni possono ammazzare qualcuno e poi dando la beffa perché si beccano pure con una contestazione, per questione di sicurezza ci siamo fermati. Ma non è che ci stiamo rifiutando di lavorare, è una questione di sicurezza proprio dei lavoratori. Quello che ci dispiace in questa storia è che il sindaco, invece di venire a tutelare i lavoratori e l'azienda, ha buttato fango sugli operai dicendo che siamo noi che non vogliamo lavorare e che non garantiamo nemmeno i servizi indispensabili. Ma questo non è vero perché noi lavoratori, nonostante sapendo di non essere in sicurezza, tra i 120 dipendenti abbiamo riuscito a raccimolare una decina di divise, ce le scambiamo l'un l'altro, riusciamo a garantire un minimo di servizi non indispensabili, più che danno all'occhio. Comunque sia, l'impegno noi ce lo mettiamo. Dal suo campo l'azienda ci ha garantito che oggi ci arrivavano le divise, però rimane sempre il problema dei mezzi che sono a carico del Comune. Il Comune dice che sono mezzi nuovi, ma sono mezzi faticenti, hanno più di otto anni e fanno tre torni al giorno. Non mancano le proteste dei residenti qui di Sansevero e sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco Francesco Miglio che ha annunciato che domani sarà convocato in prefettura a un tavolo tecnico per cercare una soluzione. Qua sono quattro giorni che non passano a raccogli di immondizie, non sappiamo più cosa mettere fuori o tenerci lì dentro, queste immondizie qua. Stiamo così, stiamo vivendo nell'immondizia. Però questi sono tutti errori che il Comune doveva verificare prima queste cose qua, i controllori che ce l'abbiamo a fare. L'amministrazione comunale di Sansevero è pienamente adempiente rispetto ai suoi obblighi contrattuali con la società che ha in appalto il servizio. Questo diciamolo e diciamolo chiaramente. C'è una difficoltà che negli ultimi tempi si è molto deteriorata di relazione tra la società e i lavoratori che sta portando questo disservizio. Ci sono delle rivendicazioni fatte dai lavoratori che sono attenzionati da me ma anche dal prefetto. Domani è stato convocato alle ore 10 in prefettura un tavolo prefettizio in cui parteciperemo tutti per mettere sul tavolo le questioni e cercare di trovare una soluzione. Certo mi sento di censurare l'atteggiamento di interruzione o di rallentamento forte della raccolta dei rifiuti che sta creando disagio alla collettività. Ecco perché ieri ho indirizzato e lo reitero anche quest'oggi un appello ai lavoratori di tornare al lavoro perché non è giusto che la comunità debba patire una difficoltà di relazione che loro stessi hanno con la ditta. È chiaro che se dovesse perdurare questo stato, questa situazione, io mi vedrò costretto come amministrazione comunale a sporgere una denuncia per interruzione di pubblico servizio.